Massimo Scappa, io ho una presunzione, dicevo ieri sera a 20 e non ho la vergogna di ripeterla. Un cittadino qualunque che insieme a un branco, come lo definisco io, di folli, ha un coraggio, il coraggio di voler rappresentare le proprie idee, cose che dobbiamo fare tutti, in maniera semplice. Il mio impegno e la mia passione da genitore è per esempio nella scuola, perché la scuola è il motore di una società, è quello a cui dobbiamo mirare e le nostre aspettative sono quei bambini che stanno crescendo nella scuola e commettiamo un delitto sociale nel momento in cui ogni bambino non sarà da grande, è quello che può essere e a questo dobbiamo puntare e sono questi i nostri sogni. Noi non spiegiamo i nostri voti, dicevo l'intera che non vedo anche adesso, ma non continuo molto semplice, perché se non fate tutti quanti del vostro impegno civile, non prendete un po' del vostro impegno civile e lo dedicate agli altri, non ne usciremo mai fuori. Io ho un esempio.